Vi auguro una buona serata e una buonanotte. Il messaggio di questa sera è caressa. Sei giunto alla fine di un ciclo della tua vita. Invoca gli angeli affinché ti consolino e ti aiutino a compiere il passo successivo. La felicità ti attende. Può darsi che questa conclusione ti renda triste e che tu abbia la sensazione di avere il cuore a pezzi. Permetti a te stesso di piangere e di addolorarti, ma sappi che noi angeli ti siamo vicini in questo momento. Quando sarai pronto ti mostreremo un po' alla volta come questo finale sia portatore di nuove benedizioni nella tua vita. Tuttavia per il momento la tristezza che provi potrebbe essere fonte di nuove intuizioni. Potrebbe indurti a completare un progetto a lungo procrastinato, o a prenderti più cura di te per esempio. È importante che tu esprimi i tuoi sentimenti in questo periodo di transizione. Tieni un diario, confidati con gli amici fidati, unisciti a un gruppo di sostegno o parla con noi angeli. Quante più cose riesci a rimuovere, tanto più ti sentirei libero. Fai attenzione alle tendenze autodistruttive che possono derivare da un senso di colpa forviante. Se mi invocherai ti aiuterò a prenderti cura di te in maniera ottimale in questa fase di transizione. Ogni volta che avrai bisogno di un abbraccio chiedimelo e sentirai le mie ali avvolgerti. Questo è il messaggio per augurarvi una serena notte.